Riedo Braida ...del recuperato Francesco Liguori Ecco Liguori, la sua vita, calcisticamente parlando, tutti la conoscono, è stata molto sofferta questo è un campionato importante per lei Io dico che ho avuto molte delusioni però quello di oggi mi ripaga tutto quanto e spero di continuare perché veramente io ci tengo perché vivo per giocare al calcio